Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di venerdì 7 aprile. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV. Allora cominciamo dal Santo del Giorno. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Giovanni Battista della Salla. Il sole è sorto alle 6.36 e tramonterà alle 19.44 minuti. Il cielo oggi su tutta la regione Marche, vedete, sarà comunque un cielo sereno con poche nuvole sia al mattino che alla sera. Nei particolari, questo è il sito di geometeo.it, al mattino avremo un cielo soleggiato, più poco nuvoloso, salvo qualche locale banco nebbioso nelle prime ore del mattino nei fondovalle interni e una maggiore residua nuvolosità nei settori meridionali ma in rapido dissolvimento. Tant'è che nel pomeriggio avremo il cielo in prevalenza poco nuvoloso, soleggiato nei settori costieri, collinari, mentre una moderata variabilità sarà presente sui settori interni ma senza particolari fenomeni. Le temperature sono in calo, le minime nei fondovalle interni con clima piuttosto freddo al mattino, in aumento anche di diversi gradi, invece le massime con clima mite e primaverile. I venti sono deboli. Questa è per la giornata di oggi. Per quanto riguarda la giornata di sabato 8 aprile, lo stesso, vedete, il cielo sarà comunque sereno o poco nuvoloso. Andiamo adesso a leggere velocemente i giornali. Cominciamo dalla prima pagina del Corriere Adriatico. H&M apre ed è subito bolge. Stiamo parlando di un negozio, di una catena importante che sbarca a Pesaro. I dipendenti fanno il conto alla rovescia sbagliando. Dura a morire la sosta delle auto invece nella nuova piazza Olivieri e scattano le multe. Alle 10 di mattina con un'ora e mezzo di anticipo rispetto all'orario fissato per l'apertura dei cancelli di H&M. Appunto ieri c'erano già due ragazze in fila. Insomma, sanno benissimo che questo è uno di quei negozi che attira gente, come può essere per esempio Zara, tutte queste grandi catene che vanno tantissimo. E quindi adesso c'è anche questo a Pesaro. Mentre a centropagina, sul Corriere Adriatico, l'ira dei sindaci, ricostruzione, basta rinviare. Parliamo del terremoto. A San Benedetto è stata intanto oscurata la scritta della discordia che vedete nella fotografia, lì c'era scritto insomma un attacco veramente indegno nei confronti dei terremotati che sono ospitati negli alberghi della riviera. Pressing dei comuni sul commissario Errani, stessi indennizi concessi all'Emilia. E questa è la prima pagina del Corriere Adriatico. Entriamo nella pagina interna, quella di Fano. Eccola qua. Il verde curato dopo Pasqua. C'era chi si è lamentato a Fano perché ancora, soprattutto l'Ido, alcune zone del mare non erano e non sono pronte per la Pasqua. La prossima settimana, siamo nella settimana di Pasqua. Ebbene, ora è presto, dice l'assessore, che replica sul discorso della manutenzione. È presto per intervenire. È inutile farlo adesso perché poi dopo l'erba ricresce. Insomma, si giustifica e dice così, il Lido è oggetto di attenzioni. Il Lido è oggetto di attenzioni un anno fa. Comunque la prima cosa che sarà sistemata è la barca di Spinaci, quella che vedete in questa fotografia. È un monumento al marinaio che si trova in Sassonia, a Fano, e che è stato danneggiato la notte del 31 dicembre scorso, la notte di San Silvestro. A Sassonia, accanto al tendone, si progetta la realizzazione di uno spazio con nuove sedute. Avviato il consolidamento invece di Palazzo Montevecchio, la maggiore delle dimore patrizie che risale al 1760, è un tesoro architettonico. È uno dei palazzi più belli, sontuosi di Fano, costruito a partire dal 1760 per dimensioni di importanza, costituisce la maggiore delle residenze patrizie fanesi, è appunto Palazzo Montevecchio. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico. La Polstrada, questa è una brutta notizia perché comunque su questa prima o poi, insomma, alla fine ce l'hanno fatta perché è tanto che sentiamo dire la Polstrada che potrebbe chiudere, eccetera, eccetera. E purtroppo il giorno è arrivato. Polstrada soppressa la sede, Fano perde un altro servizio. Il Movimento 5 Stelle rende noto il decreto di accorpamento e critica il Sindaco. Non ha voluto, dicono i 5 Stelle, il nostro aiuto. I pentastellati chiedono di bloccare l'iter o avere garanzie sulla sezione autostradale. Scogliere invece completate, è una giornata storica, la soddisfazione della Giunta. A Fano Sud la renile aumenta, ma Ginesi il Presidente del Comitato, Mauro Ginesi, portavoce di Cittadinanza Attiva, che giudica l'annuncio del Sindaco e di Fanesi non corretto, in quanto l'accordo di programma Stato e Regione Marche del 2010, poi riconfermato nel 2014, prevedeva l'innalzamento di 10 scogliere, invece ne sono state innalzate solamente 7. Ginesi dunque non è soddisfatto. Doppio sogno, parliamo di pallavolo, sempre dalle pagine di Fano del Corriere Adriatico. Doppio sogno sotto la rete, promozione e Coppa Italia. L'avventura in Sardegna di Ilenia Cecchi. Vorrei restare ad Olbia, dice amo questo mare. Un successo dopo l'altro e sta per toccare un treguardo importante, questa 33enne fanese che ha trionfato in uno dei suoi obiettivi, cioè diventare una giocatrice di pallavolo professionista e quindi auguri davvero complimenti. La fanese ha centrato l'obiettivo dello sport professionistico, gli inizi in città e a Lucrezia. Energie rinnovabili in città, quattro delegazioni estere. Stamane al Battisti la presentazione del lavoro Erasmus più sperre. Nell'occasione sarà illustrato l'importante adeguamento sismico realizzato nell'istituto scolastico. Dalla Valle del Cesano al Via la stagione dei lavori, si comincia dalle strade, il comune sistema alcune arterie viarie esterne, poi si passerà al centro storico. Partita la qualificazione del teatro con nuovi impianti luce e video, presto ci sarà anche quello audio. Ancora dal Corriere, parcheggi Rosa, siamo a Mondolfo, i pentastellati ottengono l'unanimità, stalli riservati, parcheggi riservati a donne incinte o con neonati. Il vice sindaco Diotalevi dice si può collaborare. La poesia e musica, l'ultimo album di Frida Neri. Domani al Tiberini la presentazione di Alma con tutti i suoi collaboratori. E adesso invece la pagina di Senigallia. Sulle strade è una roulette russa, pedoni, arrischio, traffico nel caos. A Marzocca proteste dopo l'ennesimo investimento. In centro è a Cesano, modifiche e code. Questa è la prima pagina di Senigallia. La seconda invece è Palazzetto, Baviera come una toilette, allarme rosso per scene di degrado e atti di vandalismo che non risparmiano edifici di prestigio. Ora qualcuno ha scattato una foto al gesto di inciviltà e l'ha fatta girare sui social network, suscitando sdegno. A Trecastelli invece i ladri che si calano dal lucerno tornaio, colpo grosso al calzaturificio, blitz da Luis di Monterado, fuga con scarpe di lusso per decine di migliaia di euro. La banda agito di notte, la refurtiva è stata caricata su un furgone. E questo è il Corriere Adriatico. Adesso invece andiamo a leggere la prima pagina del resto del Carlino. Eccola qua, quella di Pesero con la Ressa, con i selfie, addirittura di fronte all'ingresso di H&M, appunto questo negozio che è aperto a Pesero, ed è subito folla. Ormai gran parte del centro storico, scrive il Carlino, è occupato dalle catene internazionali di abbigliamento, concorrenza all'ultimo cliente, mentre i vecchi negozi sono archeologia, ma a volte la qualità paga. E quindi a volte se uno vuole le cose di qualità bisogna andare da chi, insomma, da chi ancora ha questi negozi, negozi di una volta. Alla sbarra la cattiva maestra. Nei guai c'è finita una 49enne fanese, un'insegnante a Vallefoglia. Su di lei c'è una doppia indagine adesso. Umiliava e spintonava gli alunni. Lo vediamo tra un istante. Il tempo di passare dalla pagina principale appunto alla pagina interna, la pagina 5. Paura in classe, flessioni, viso contro il muro e offese. Così educava la cattiva maestra. A processo una 49enne insegnante di una quarta elementare a Vallefoglia. Era diventata il terrore della classe, scrive Elisabetta Rossi sul giornale di questa mattina. Quando entrava in aula lei, per quei bambini in quarta elementare di una scuola di Vallefoglia, era l'inizio di un incubo. Un incubo andato avanti per mesi in cui quella maestra non si sarebbe risparmiata in urla, continue, offese ed umiliazione. E c'è tutti i particolari su questo articolo del resto del carino. La pagina di Fano invece apre con le scogliere, quelle nuove, a prova di Bora. I bagnini già rilanciano, ora la passeggiata a Sassonia e il sottopasso a Ponte e Sasso. Sono le altre due cose che servono adesso e che chiedono appunto gli operatori del mare per sistemare e dare una sistemazione definitiva a questa spiaggia. Fermento negli stabilimenti. Entro il 25 di aprile avremo già montato gli ombrelloni. L'estate dunque ormai sta arrivando, ormai è alle porte. Si cerca di far bella un po' tutta quanta l'area. Invece, adesso al di là dell'estate, insomma, ancora c'è la Pasqua. Verso la Pasqua c'è questa sera in centro la Via Crucis in città a Fano in occasione della 32esima giornata mondiale della gioventù. Alle 20 è in programma la Via Crucis di Ocesana per le vie della città guidata dal Vescovo di Fano Trasarti. Un gioioso biscione di giovani raccolto in preghiera partirà dal piazzale della parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato per raggiungere la cattedrale, percorrendo poi tutta una serie di vie. La Via Crucis di quest'anno, ha detto Don Steven Carboni, che è responsabile del servizio di Ocesano di Pastorale Giovanile, segna anche l'inizio del percorso verso il sinodo dei giovani 2018. L'altra pagina del resto del Carlino a Pergola, una nuova caserma per l'arma, è l'impegno del sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, mentre nella fotografia vedete l'attuale caserma dei Carabinieri della città dei Bronzi, è arrivato l'ok dal Consiglio Comunale al bilancio preventivo, ecco cosa prevede. Dunque l'impegno di Baldelli, avviato l'iter tecnico amministrativo. Questa è la pagina di Pergola, la polizia, il ministero taglia Fano che ha già perso dunque la stradale e a Pesaro rischia invece la polizia postale. Allarme di Lanzi, il sindacalista del SIULP, le scelte secondo il sindacalista sono incomprensibili, però di fatto c'è questa chiusura della polizia postale di Pesaro, si aspetta il decreto ministeriale, l'esito sembra ormai scontato, se la decisione fosse confermata sarebbe incomprensibile, dice Lanzi, perdiamo delle grandi professionalità e un importante punto di assistenza per i cittadini. E se per la polizia postale di Pesaro si attende il decreto ministeriale, per il distaccamento della stradale di Fano il destino è già segnato. Dallo scorso 31 marzo, con un provvedimento firma del capo della polizia, la stradale di Fano rientra tra i distaccamenti soppressi. E questa è la purtroppo brutta notizia. Direi che possiamo fermarci qui, non c'è altro, la rassegna stampa torna domani mattina come sempre alle 7.30, salutiamo anche tutti quelli che ci seguono chiaramente in replica, nelle varie repliche del giorno, l'ultima è alle 13.30 e anche quelli che ci seguono attraverso internet all'indirizzo occhialanotizia.it. Avete appena visto il nostro numero telefonico per le vostre segnalazioni, come sempre per noi sono molto importanti, quindi continuate pure a dialogare insieme alla nostra redazione attraverso WhatsApp. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 perché c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. A voi tutti gli auguri di una buona giornata. Grazie a tutti.